Ieri pomeriggio il Cipe ha approvato due delibere che renderanno spendibili 1 miliardo e 200 milioni di euro per la ricostruzione privata post-sisma all'Aquila e nei comuni del Cratere. Per l'effettiva erogazione del finanziamento però manca la bollinatura della Corte dei Conti, dunque al massimo saranno necessari ancora un paio di mesi di attesa. Una buona notizia per quanti attendono l'undicesimo elenco con i buoni contributo anche per il 2015. Il miliardo di euro comprende i capitoli di spesa contenuti in due distinte delibere del Cipe. La legge di stabilità del 2014 per la ricostruzione degli immobili e l'assistenza tecnica, nonché la legge di stabilità 2015, lo sblocca Italia e il decreto emergenze. Ora però la palla passa nel campo dell'ufficio speciale per la ricostruzione che dopo la nomina del nuovo titolare deve darsi da fare per recuperare il tempo perduto. Alla notizia arrivata dal Cipe ha fatto seguito il commento entusiasta del vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli il quale in una nota ha sottolineato come si stia procedendo all'erogazione progressiva dei 6 miliardi di euro previsti dalla contabilità dello Stato per l'Aquila. Lolli ha concluso dicendo che è necessario ed urgente risolvere i problemi legati al personale e allo snellimento delle procedure burocratiche per le pratiche legate alla ricostruzione.